Come sono questi abbracci? Effettivamente da più di un anno che mi mancano gli abbracci anche con la mia mamma. Approfitto di questa bellissima situazione con questa bellissima signora Loredana per provare questa stanza bellissima. Complimenti all'Anteo, effettivamente ci voleva proprio in questo bruttissimo periodo. Quindi sono veramente felice di abbracciare la signora. La RSA Regina Mundi si è dotata di una stanza degli abbracci. Come hanno accolto gli ospiti questa iniziativa? Sono stati molto contenti di poter rivedere i loro familiari e riabbracciarli. Ho assistito a scene di commozione immensa sia da parte loro ma anche da parte nostra come personale della struttura. Quindi ringraziamo la direzione che ha reso possibile questo ma anche tutto lo staff di Regina Mundi. Ci sono altre iniziative che l'RSA sta pensando, sta mettendo in campo? Sì, assolutamente. Noi abbiamo già avviato una serie di lavori all'interno della struttura intanto per riamodernarla, renderla più accogliente perché ovviamente la nostra mission principale è quella del benessere, della salute dell'ospite e anche dei dipendenti. Ovviamente per far stare bene l'ospite deve stare bene anche il dipendente. Quindi ci sono anche arredi nuovi in arrivo e quando sarà tutto finito spero di poter portarvi anche dentro a visitare i nuovi locali e la nuova struttura. Intanto mi fa piacere essere qui dopo un anno perché un anno fa di questa RSA, della nostra RSA, non si sapeva quale futuro, quale destino potesse avere e invece oggi ci troviamo con una nuova gestione che sta investendo nella struttura, sta migliorando le cose, sta progettando ulteriori investimenti e soprattutto sta rendendo migliore la vita degli ospiti e questo oggi lo fa con questa stanza degli abbracci di cui abbiamo sentito parlare in varie parti d'Italia ma che finalmente arriva a chiacchianciano e che permetterà ai parenti più stretti, ai conoscenti, agli amici di rivedere queste persone che se no rischiavano di essere in qualche modo ghettizzate, chiaramente non per volontà di chi gestisce o della comunità ma perché effettivamente la pandemia ha colpito duro soprattutto le persone anziane e soprattutto la RSA.